Strade deserte, autobus incendiali, rumori di spari, saccheggi ovunque e poi omicidi un'ottantina in appena 4 giorni contro gli appena 5 dello scorso mese di gennaio. Lo Stato brasiliano di Espirito Santo si prepara al carnevale peggiore della sua storia e l'allerta è così drammatica che da Brasilia si è deciso di far intervenire l'esercito. Tutta colpa di uno sciopero dei poliziotti militari dello Stato che di fronte all'ennesimo no per una richiesta di aumento di salario sono 4 anni che lo chiedono, hanno deciso di entrare in sciopero. Uno sciopero che ha scatenato la violenza collettiva e così a centinaia con precedenti penali e senza scrupolo hanno approfittato dell'assenza della polizia nelle strade per seminare il terrore in tutto lo Stato. Nella capitale Vittoria la situazione è drammatica come racconta questo commerciante la cui pizzeria è stata presa ad assalto e rapinata. Non c'è polizia per strada, siamo abbandonati a noi stessi, io sono stato appena rapinato, non possiamo più lavorare, devo per forza chiudere e fuggire. Il panico ha ormai contagiato anche i normali cittadini. Questa signora che non vuole mostrare il volto racconta la sua drammatica esperienza. Sono arrivati quattro uomini e ci hanno puntato la pistola alla tempia mentre eravamo in auto e ci hanno intimato di uscire dall'auto. Siamo subito usciti e quando siamo usciti sono corsi via con la nostra automobile e con noi che correvamo via dall'altra parte. Eravamo disperati, non c'era nessuno che ci potesse aiutare. Mai avrei pensato che questo mi potesse succedere, sinceramente. Una situazione gravissima e non è stato sufficiente l'intervento dell'esercito e neppure l'invito ai poliziotti a tornare in servizio del comandante generale della polizia militare. Il coprifuoco è sceso sulle più importanti città di questo stato brasiliano. Non è la prima volta, purtroppo, che a causa di uno sciopero della polizia in Brasile scoppi il caos. In altri anni, in altri stati, lo scenario era stato simile a quello di Espirito Santo e il risultato lo stesso. Il territorio che diventa terra di nessuno, la violenza che la fa da padrona. Il tutto mentre il paese vive un momento politico delicatissimo, con il ministro della giustizia, Alexandre de Moraes, accusato in passato di aver difeso alcune cooperative di autobus legate alla fazione criminale del PSS, il primo comando da capital, candidato adesso al nuovo ministro del Supremo Tribunale federale, al posto di quel Teori Zavascki, morto settimane fa in un misterioso incidente aereo.